E' stato firmato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa tra la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta e l'Associazione Unione Panificatori Nisseni per le attività socio-assistenziali da effettuare nel territorio di Caltanissetta. Le due organizzazioni, rispettivamente rappresentate da Niccolò Piave e Antonio Amico, hanno sottoscritto le reciproche volontà di realizzare un progetto finalizzato alla diminuzione dello spreco alimentare attraverso il recupero e la donazione di prodotti alimentari o classificati come eccedenze alimentari o alimenti che i panificatori interessati possono donare alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Quest'ultima, che utilizzerà i suddetti prodotti alimentari, è finalizzata alla realizzazione di pasti alimentari da distribuire gratuitamente alle persone e famiglie bisognose individuate dalla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta o su segnalazione dei servizi sociali dei comuni convenzionati. Inoltre, il protocollo d'intesa avrà ulteriori scopi a favore delle politiche ambientali e di riciclo attuate dalla Polisi della Croce Rossa Italiana. Difatti, grazie alle donazioni, si ridurranno in proporzione i quantitativi di rifiuti prodotti e, di conseguenza, i relativi costi economici, sociali ed ambientali di smaltimento degli stessi. Si proporranno meccanismi premiali, tra cui la riduzione della tariffa comunale su rifiuti, come previsto dal regolamento Tari a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze, anziché destinarle al rifiuto, diffondere la cultura dell'importanza di ridurre lo spreco alimentare e la donazione di beni ed infine realizzare e diffondere campagne di comunicazione e informazione sull'importanza della riduzione dello spreco alimentare.